Era un infermiere del 118 di Bergamo, volontario della sesta delegazione aerobica del soccorso alpino e spellologico, attento conoscitore dei luoghi impervi, della montagna e dei suoi pericoli. Claudio Rossi, 42 anni, è perso la vita a mercoledì 13 gennaio, travolto da una valanga nella zona tra Costa Imani e Brumano, nei pressi della costa del Paglio, dove si trovava in compagnia di un amico. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 10 e 30. La valanga, che aveva un fronte di 50 metri, ha parzialmente risparmiato proprio il compagno di ascursione, che da solo è riuscito a dare l'allarme. La centrale di Soreo ha subito mandato sul posto l'elisoccorso proveniente da Bergamo, Sondrio e Como. Le squadre del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Spellologico sono state portate in quota con l'elicottero dalle piazzole di Santomo Bonoterme di San Giovanni Bianco. Altri soccoritori erano invece pronti a partire dal centro di Clusone. Claudio è stato ritrovato circa due ore dopo, attorno a mezzogiorno, dall'unità cinofila da Valanga sotto una settantina di centimetri di neve schiacciato contro un albero. È stato quindi immediatamente soccorso dall'equipe sanitaria e portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è spirato nel primo pomeriggio lasciando la moglie e i due figli. L'elicottero di Areola, azienda regionale Emergenza Urgenza, è poi tornato a prendere l'amico e lo ha portato in ospedale per accertamenti. Poco dopo, intorno alle 15, è arrivato però un altro allarme per il mancato rientro di un uomo sempre nel comune di Brumano. I tecnici sono allora ripartiti, portati in quota dall'elicottero. Nel frattempo i carabinieri hanno però segnalato che l'uomo era rientrato da solo senza bisogno di alcun aiuto.